Oggi in Abruzzo sono stati comunicati 222 nuovi casi positivi al coronavirus di età compresa tra sei mesi e 95 anni che portano il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia a 47.773, 32 i nuovi casi in provincia dell'Aquila, 77 in quella di Chieti, 69 nella provincia di Pescara, 39 in provincia di Teramo cui si aggiungono cinque residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime ore 3.207 tamponi molecolari e 4.213 test antigenici per un totale di 7.420 in un giorno e il tasso di positività complessivo è pari al 3%. Cinque i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore con il totale salito a 1.563 mentre di 34.560 quello dei guariti più 2 rispetto a ieri. Dati che portano a 11.648 il numero degli attualmente positivi più 215 nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero sono minime le variazioni 547 i ricoverati in area medica uno in meno nelle ultime 24 ore e 52 i ricoverati in terapia intensiva uno in più rispetto a ieri con gli altri 11.049 positivi in isolamento domiciliare più 215 rispetto a ieri.